Le leucemie rappresentano un terzo di tutti i tumori dei giovanissimi sotto i 14 anni e circa quattro bambini colpiti da leucemia su cinque sviluppano la leucemia linfoblastica acuta, il tumore del bambino più frequente in assoluto. Le leucemie sono tumori delle cellule staminali da cui originano le cellule del sangue. Quando ci si ammala, le cellule del sangue non possono più crescere e svilupparsi in modo naturale. Le cause che scatenano la malattia non sono ancora completamente chiare, sebbene esistano alcuni fattori di rischio. La buona notizia però è che la scienza ha compiuto passi da gigante nella cura di questi tumori del sangue, specie quando insorgono in età pediatrica. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top, prodotto dall'Ital Press, Momcilo Jankovic, pediatra-ematologo, consulente dell'area psicosociale del centro Maria Letizia Verga dell'ospedale San Gerardo di Monza. Oggi 8 su 10 e in alcune forme addirittura 9 su 10 guariscono. Tantissime, veramente tantissime. Tantissime, sì, grossa soddisfazione. Ma quali sono le leucemie più frequenti, Momcilo? La leucemia più frequente si chiama leucemia linfoblastica acuta, che è dal tipo di cellula dei globuli bianchi interessati e rappresentano circa il 75-80%. Poi ci sono le leucemie mieloide acute, invece le forme croniche sono molto rare, sono più tipiche dell'adulto, c'è qualche forma anche del bambino, ma sono più rare. Senti, ma proprio rivolgendoci al nostro pubblico a casa, che è quello che ci guarda in questo momento, tanti se non tutti hanno bambini. Quali sono, Momcilo, i segni da temere oppure da tenere in considerazione, da osservare, i sospetti quando nascono? Questo è un terreno fragile, perché purtroppo i sintomi che a volte contraddistinguono l'esodio di una malattia, sono sintomi semplici, dalla febbre, dolore e tutto. Io però sottolineo due, in modo che la gente non si spaventi. Uno, le sintomatologie emorragiche, le famose petechio, le matomiche, ma devono essere diffuse abbastanza, non è solo il sangue da naso, oppure per esempio non si spaventi di tutto. I dolori sono dolori persistenti che resistono anche a terapia antidolorifica che le puoi dare. La febbre è una febbre che non risponde a terapia antibiotica o a terapia antifebbria, per cui sono sintomi, ripeto, comuni a tante altre patologie, ma con una persistenza e una insistenza maggiore. Per cui il pediatra, che è il primo medico di riferimento dei bambini, del nostro pubblico a casa, se ne accorge... Ecco, nel tempo. Io questo ci tengo a dirlo che per fare una diagnosi il sospetto viene dopo due, tre settimane e non c'è bisogno di correre, non è come per alcuni tumori solidi o altri, per cui bisogna avere un pochettino la pazienza e vedere che non risponde alle terapie tradizionali. Quanti sono, momci, le bimbi che si ammalano? Oggi si ammalano. Avete fatto una valutazione? Avete fatto una valutazione, fortunatamente è una patologia rara, perché uno ogni 100.000 nati, ma sono in Italia circa 400-450. Se prendiamo poi anche la fase adolescenziale, che è quella che va dai 14-18 anni, perché si è visto che risponde meglio alle cure pediatriche, non quelle dell'adulto, ecco il numero è intorno tra i 400 e i 500. La forma di tumore più frequente, rappresenta circa un terzo, quindi il 30%, infatti i tumori infantili in generale sono circa 1200-1300 all'anno.